E' possibile vivere un nuovo paradigma esistenziale. Impareremo come questa possibilità sia reale, come è possibile vivere consapevoli, liberi, felici e soprattutto come entrare in un paradigma esistenziale basato sulla causalità e non sulla casualità. D'altronde questo universo è chiamato cosmos, che vuol dire in greco ordine e non caos, disordine. Esiste al di là di ciò che vediamo nella superficie dei comportamenti, delle forme, dei colori, delle dinamiche, delle situazioni, un qualcosa di molto più profondo, che rappresenta un linguaggio simbolico essenziale, sostanziale, un qualcosa di non verbale, di non scritto, di non detto, che possiamo cogliere solo a patto di essere veramente e profondamente consapevoli di noi stessi, di questa realtà, di questa verità sostanziale. Tutto ciò che accade nella nostra vita non dipende dal visibile, dipende dall'invisibile, da ciò che non riusciamo a vedere, spesso a cogliere e che influenza tutto ciò che è presente in questo momento nella tua vita. Possiamo comprendere questo linguaggio simbolico, possiamo toccare, vedere con chiarezza, accedere a una visione consapevole attraverso cui funzionano le meccaniche della realtà, o meglio di ciò che crediamo e consideriamo reale. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!